Un trisse di acquisti, la Virtus Lanciano è pronta a chiudere diversi colpi in entrata. Il direttore sportivo Luca Leone avrebbe infatti già trovato l'accordo per l'arrivo di Pinato, figlio d'arte, Monachello, ventenne attaccante del Monaco. La società rossonera lavora anche su altre trattative come quella per Capezzi della Fiorentina. Tornato invece al Catania, l'attaccante croato Bruno Pettovic, la società lancianese ha deciso di rinunciare al suo tesseramento. Intanto il Lanciano ha ceduto in prestito al Melfi, squadra di Lega Pro, fino a giugno 2015 il difensore ventunenne Nicolas Di Filippo e Lorenzo Cattafest al Taranto. Una bella notizia che invece riguarda Davide Agazzi, che è stato convocato dal selezionatore dell'Italia B Massimo Piscedda per la gara amichevole che gli azzurri disputeranno domani alle 18 presso il centro tecnico federale di Coverciano contro la rappresentativa dei calciatori senza contratto dell'AIC. E a proposito di amichevoli, dopo domani i ragazzi di Mister Daversa, reduci dal duro lavoro nel ritiro di Roccaraso, torneranno nuovamente in campo per affrontare ad Eboli la salernitana corazzata della Lega Pro e che punta ad un immediato ritorno nel torneo cadetto. Ironia della sorte, la Virtus potrebbe ritrovare i Granata Campani nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, sempre che la squadra del patron Lottito superi nel primo turno l'Alessandria. Infine la campagna abbonamenti che prosegue spedita, toccata quasi quota 1.500, si punta ad avvicinarsi, perché no, alle 2.000 unità per Lanciano rappresenterebbe un vero e proprio record.